Ora, io ho proprio due parole di introduzione, mi permetto di fare questa introduzione molto informale e do il benvenuto a tutti. È un grande piacere di aprire appunto questo ciclo di conferenze sul tema Open Access, Open Source, Open Science, Open Data. È un evento pensato al DACD ma naturalmente open a tutta la SUPSI e vedo anche una partecipazione da qualche collega al di fuori del dipartimento che mi fa particolarmente piacere. Immagino che tutti avete sentito di questa attività intorno a Open Access, Open Science, iniziato da diversi anni per la verità. È concretizzato diciamo un po' più, in modo più elaborato per le scuole, università professionale e le università Swiss University nel 2017. Un documento Swiss University appunto che si impegna a favorire, a definire una policy per tutte le istituzioni in questo ambito. E quindi anche la SUPSI ha sottoscritto questa policy e diciamo con la commissione ricerca della quale faccio parte come responsabile della ricerca del DACD, stiamo anche definendo insieme anche a Yolanda e altri esperti esterni delle questioni pratiche, come per esempio la scelta per l'implementazione del repository e così via. E quindi anche per la SUPSI è un tema di attualità e abbiamo notato, questo è un po' il motivo per il quale abbiamo ideato questo ciclo di conferenze, che per tanti questo tema è ancora una sconosciuto. Quindi abbiamo voluto organizzare qualcosa che ci permette di informare, di creare anche un po' una conoscenza di base, un po' per tutti, condivisi da tutti, informare, sensibilizzare i ricercatori su questa tematica, perché appunto tutti gli enti, dal Fondo Nazionale alla Commissione Europea, vanno nella direzione di Open Access, Open Data e così via. E quindi ci sembra necessario e utile fare qui un'introduzione che illustra un po' tutto quello che è legato a questa tematica, ma anche vogliamo dare delle informazioni pratiche, strumenti concreti, e veramente dare un primo supporto, un primo aiuto a muoversi in questo nuovo mondo che si sta aprendo. E quindi vogliamo anche un po' un confronto, siamo qua anche per rispondere a domande. E abbiamo pensato appunto di iniziare con una presentazione più generale da parte di Yolanda. Yolanda pensa che si occupa da tanti anni di temi di Open Access, Open Science, Open Data. Lei ha un dottorato in antropologia sociale e etnologia, adesso poi devo vedere, all'Università Ecole sulle Scienze Sociali a Parigi, e quindi una persona altamente qualificata in questa tematica con anche già una lunga esperienza con ricerca per la tesi di dottorato, ma anche poi attività che sono seguiti successivamente. Per le prossime poi tre eventi abbiamo invitato un esperto, direi, proprio del mondo dell'Open Access, Alessandro Pierno, responsabile della rivista per la Firenze University Press, quindi veramente vive nel centro, diciamo, di questo movimento. Poi lui è anche appunto, ha seguito da vicino tutto lo sviluppo sull'Open Access, Open Science. È già intervenuto in un evento della SUPSI, è una persona appunto altamente qualificata, ma anche molto piacevole a sentire. Quindi penso che sia un modo anche interessante entrare in questo mondo. La modalità è quella della presentazione in rimoto, questo a distanza, chiaramente questo è un po' un difetto, e ci rendiamo anche conto appunto che siamo tutti un po' fattico di seguire in questa forma, ma è un'occasione comunque che volevamo accogliere prima, diciamo, della pausa estiva. E quando parliamo di noi devo menzionare soprattutto Francesca Pichet dell'IMC, che ha avuto, diciamo, l'iniziativa, l'idea di fare qualcosa in questo ambito, e poi ha organizzato essenzialmente con Yolanda Pensa questo ciclo. Quindi ringrazio tantissimo entrambe per l'iniziativa e anche l'impegno, che non è da poco, che comunque hanno preso accanto a loro già molti altri impegni, e sono molto grato a loro di aver organizzato questo ciclo di conferenze. Francesca Pichet, penso, l'ha fatto con due o tre colleghi del collegio, e comunque è lei che ha tirato qui il carro e ha organizzato tutto dal flyer e alle date e così via. Quindi grazie di cuore a Francesca e con questo vorrei lasciare, senza tante altre parole, a Yolanda lo stage, lo schermo per la sua presentazione e poi sicuramente c'è anche spazio per domande e discussioni. Ringrazio Yolanda e a te la parola. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il compito che mi è stato dato per oggi è quello di fare una presentazione abbastanza generale sull'open science, quindi a dare un'idea del contesto in cui nasce, cosa significa, perché la ricerca sta andando nella direzione dell'open science, qualche idea di cosa vuol dire poi mettere in pratica l'open science e che cosa sta succedendo alla SUPSI. Comincio subito con Swiss Universities. Come già diceva Roman nell'introduzione, ormai la Svizzera sta andando nella direzione dell'open access. Abbiamo un obiettivo molto ambizioso, entro il 2024 tutta la ricerca in Svizzera sarà open access, per cui già Swiss Universities con questa polizzi nazionale che coinvolge tutte le università, università farosciule, università e politecnici, quindi tutti quanti stanno andando nella direzione dell'open access. E quello che sta facendo Swiss Universities, quindi questo network delle nostre università, è quello di creare degli strumenti e delle pratiche di accompagnamento. In particolare, uno dei temi importanti sui quali si sta attivando Swiss Universities anche con il Fondo Nazionale è quella della negoziazione con le case editrici, che è un tema abbastanza complesso e complicato. Ma non solo. In realtà Swiss Universities ormai, nel modo in cui sta promuovendo l'open access, sta cominciando a parlare sempre di più e sempre più ampiamente di open science, quindi includendo nelle direzioni in cui le università devono andare i dati aperti in particolare. Quindi non solo open access, ma anche un'attenzione particolare per i dati. E questa è una direzione in cui stanno andando un po' tutti nel mondo. Cito ovviamente l'Unione Europea, perché è comunque un punto di riferimento sulle politiche dell'open science e ha preso veramente delle direzioni molto forti in questo ambito. E poi il Fondo Nazionale, che appunto è promotore dell'open science in Svizzera. Ma cosa vuol dire questa parola open science? Il tema dell'open science è molto generico. Il termine in realtà è un termine inclusivo che abbraccia l'apertura di contenuti, l'uso di strumenti aperti, l'uso anche di metodologie e processi aperti. In pratica open science vuol dire che la ricerca diventa più aperta, diventa più trasparente, più accessibile, più collaborativa. Se prendiamo l'open access, quindi una di queste pratiche che inseriamo all'interno dell'open science, in pratica l'open access è la possibilità di leggere delle pubblicazioni gratuitamente e subito. Ci sono poi diverse modalità con le quali si può accedere a queste pubblicazioni, però nella direzione in cui stiamo andando anche con Swiss Universities sono autorizzate, approvate e comunque sostenute due sole direzioni, che sono il green e il gold open access. In pratica vuol dire che possiamo accedere alle pubblicazioni all'interno di una banca dati istituzionale, è la definizione del green open access, oppure possiamo accedere direttamente alle pubblicazioni online nel sito delle case editrice accedendo all'intera pubblicazione. In questo caso si chiama gold open access. Un altro ambito in cui va l'open science è l'apertura dei dati. In questo caso significa che tutti i dati della ricerca, o comunque gran parte dei dati o una selezione dei dati, perché poi non è detto che tutti i dati possano essere aperti subito, però i dati diventano consultabili e riutilizzabili, quindi significa renderli disponibili all'interno di un repository. Ho messo un'immagine di Zenodo, che è un repository soprattutto di dati, ma anche di pubblicazioni, e Zenodo probabilmente sarà anche uno strumento che userà la SUPSI in futuro. Un altro ambito dell'open science è quello delle risorse educative aperte, open educational resources. In questo caso significa che i materiali per insegnare e imparare diventano anche questi accessibili e gratuiti. Faccio altri esempi legati alla nostra università. Cito qui un progetto di Massimiliano Cannata che è molto attivo nell'open software, ma non è il solo. In realtà anche all'interno della SUPSI lo sviluppo di software libero è un altro ambito già molto attivo, molto vivace. Quindi l'open software è l'attenzione anche da parte delle università dell'uso di software libero, ma anche dello sviluppo di software libero. Quindi vengono creati strumenti e servizi a partire dal software che è già aperto. Una peculiarità poi nostra della SUPSI, in particolare del DACD del nostro dipartimento, è l'open hardware. Ho messo un'immagine del Master of Advanced Studies in Interaction Design, perché molti degli studenti producono anche grazie al Fab Lab dei prodotti fatti con open hardware. E Arduino è uno di questi esempi. E tra l'altro Massimo Banzi, che è uno dei fondatori di Arduino, è uno dei docenti nel Master. Per cui mi sembrava un riferimento importante, perché è comunque abbastanza eccezionale l'esperienza che ha la SUPSI anche in questo campo. Infine ho messo soltanto, non ho messo tutti gli ambiti dell'open science, ma giusto per darvi qualche esempio, qualche riferimento, ho messo anche la citizen science, quindi questa attenzione al coinvolgimento dei cittadini. Questo è un ambito nel quale io sono molto appassionata per via dei progetti di Wikipedia, Wikidata, OpenStreetMap. Non sono l'unica, anche Massimiliano Cannata è estremamente attivo su OpenStreetMap e tutto l'Istituto Scienze della Terra, ma poi anche molti colleghi conoscono e utilizzano questi strumenti. Ma poi anche per esempio il nostro laboratorio di microbiologia è attivo con un progetto di citizen science. Quindi questo coinvolgimento è la possibilità di chiedere aiuto ai cittadini o di collaborare con i cittadini nel realizzare delle ricerche, nel raccogliere dati, nel lavorare insieme per produrre innovazione, ricerca, sviluppo anche di quello che facciamo come nostre attività. Quindi l'open science è prima di tutto un'apertura, apertura dei contenuti, nel senso di condivisione, ma soprattutto la possibilità di collaborare. Soltanto nel momento in cui vengono aperti i contenuti è possibile collaborare con altri, riutilizzare materiali prodotti da altri e con questo riuso e con questa collaborazione produrre innovazione. Un altro tema molto importante è anche quello della trasparenza. Cioè tutto diventa più aperto, più visibile, si può vedere meglio come sono state fatte le cose, i processi e i metodi utilizzati e questa trasparenza genera anche un'affidabilità dei contenuti e come spesso si dice anche un miglioramento della qualità della ricerca che facciamo. Molti enti che sostengono l'open science forniscono poi molte informazioni comunque sul perché e ci sono in realtà anche posizioni leggermente diverse. Nel caso di Swiss Universities per ora ha inserito proprio nel sito una parte sull'open access, quindi le motivazioni per il quale c'è un valore nel rendere più vicini alle persone gli articoli, di più facile accesso, di più facile lettura. Questo tra l'altro è emerso in modo estremamente prepotente adesso durante la crisi del Covid e si è imposta anche questa necessità di vedere subito le ricerche, di vedere immediatamente i risultati. Ma ci sono poi tante altre prospettive sull'open science. Senza stare a guardarle tutte mi piaceva porre un pochino l'attenzione su quelle che sostiene molto l'Unione Europea. Quindi questa visione in cui il sistema della ricerca, il sistema della scienza si modifica, si trasforma e sostanzialmente diventa più trasversale, più capace di anche avere un impatto in più ambiti. Quindi è come se diventasse più poroso, più comunicante con più di un ambito e quindi la ricerca diventa più capace appunto di collaborare e di avere un impatto e di avere una capacità anche di produrre ripercussioni sulla società positiva. Questo tipo di approccio in realtà si trova anche nella strategia di Svizzera digitale. Quindi nella strategia nazionale sul digitale i dati e i contenuti digitali e l'intelligenza artificiale fanno parte di uno degli argomenti per il quale viene sostenuta l'apertura dei contenuti. E in particolare si parla proprio di open data e si fa riferimento specificatamente alla ricerca. Quindi si parla del libero accesso ai dati e ai risultati della ricerca per contribuire a migliorare l'effetto, quindi ancora una volta l'impatto, la trasparenza, la riproducibilità della ricerca scientifica. E con riproducibilità è anche questa possibilità di verificare, di controllare, di avere una ricerca che sostanzialmente è di migliore qualità. L'open science poi è collegato a tantissime altri dibattiti. Per esempio si può fare riferimento a tutto quello che è il movimento del sapere libero, il desiderio di una cittadinanza che è più attiva e più partecipe anche al sistema della ricerca. Il fatto che si vuole, nel momento in cui dei progetti sono finanziati con dei fondi pubblici, si vuole che questo materiale, questa ricerca, questo contenuto prodotto dai fondi pubblici, sia a sua volta pubblica. Un altro dibattito molto importante è quello legato anche alla critica molto aspra che si fa nei confronti del sistema delle pubblicazioni, sia perché il sistema delle pubblicazioni a volte è un sistema molto strano in cui effettivamente ruoli non retribuiti contribuiscono a un sistema profit con dei grandi profitti, il fatto che ci sia un doppio pagamento, quindi si paga per le ricerche, ma si paga poi tantissimo anche per le pubblicazioni, quindi diciamo con delle dinamiche non approvate, ma anche il fatto che nel momento in cui la pubblicazione scientifica è parte di un ecosistema di tante cose, di dati, di materiali, di una ricerca più aperta, inizia ad avere un ruolo diverso, quindi la pubblicazione è importante, ma è importante anche rendere accessibili i dati, è importante anche riconoscere il fatto di aver prodotto delle policy o un impatto sulla società, quindi entrano a far parte anche dei sistemi di valutazione della ricerca altri criteri che può avere senso e può essere interessante valutare in particolare in alcuni ambiti disciplinari. Io trovo che pensando un po' all'open science, a volte diventa automatico riflettere subito sull'open access, quindi su quel pezzettino che è l'accesso alle riviste scientifiche. Mi piace pensare che sia una specie di iceberg, per cui la punta dell'iceberg è sì, vedere un articolo, poterlo leggere online, poter leggere finalmente in modo gratuito un articolo subito. Questa è sicuramente la cosa più visibile, più facile anche di accesso e magari anche più utile per una più ampia cittadinanza, per i colleghi, per le persone che fanno ricerca. Ma in realtà l'open science, quindi tutto questo mondo di apertura e di nuovi approcci aperti al sapere scientifico e al mondo della ricerca, fa molto di più e fa delle cose che magari non si vedono subito, ma che in realtà sono la sostanza di quello che si sta facendo. In particolare l'apertura di dati, la possibilità di riutilizzare i materiali, il fatto che comunque la ricerca diventa più aperta, sostanzialmente quello che fa è rendere possibile la collaborazione, perché altrimenti sarebbe legalmente non possibile e a volte non possibile proprio per una mancanza di accessibilità ai contenuti. E un'altra cosa che fa è appunto rendere possibile l'uso di contenuti già fatti da altri, per cui è qualcosa che è molto più ampio rispetto a soltanto poter leggere un articolo. Di quell'articolo si può utilizzare il materiale che è stato la base, si può replicare la ricerca, si può farlo evolvere in un altro modo, si può confrontarla con nuovi dati, per cui cambia completamente il modo in cui si fa ricerca o potenzialmente può essere un modo per riconsiderare come facciamo ricerca e arricchirla e renderla migliore e quindi potenziarla. Passando all'open science in pratica, il processo potrebbe sembrare molto complicato se uno prende in considerazione tutti gli elementi, ma in realtà le cose che vanno fatte sono piuttosto limitate. Una prima è senz'altro l'attenzione verso le pubblicazioni. In realtà si sente come come se fosse un obbligo quello della pubblicazione su una rivista open access, in realtà questa possibilità comunque di pubblicare in green open access è una possibilità ampiamente disponibile adesso, moltissime riviste rendono possibile l'autoarchiviazione, quindi l'archiviazione di un articolo da parte dell'istituzione, per cui non è una possibilità così remota. Vanno però verificate le riviste e a volte bisogna anche scrivere alle case editrici, fare presente che anche la direzione in cui si sta andando è questa, quindi ci vuole un po' più di attenzione e più di coscienza nelle scelte che si fanno poi con la scelta delle riviste e anche con la discussione con gli editori. Un altro elemento è quello della produzione di fair e open data, quindi questo richiede un'attenzione a come vengono prodotti i dati, richiede un'attenzione anche a dove verranno salvati e ovviamente come verranno prodotti questi dati con tutte le caratteristiche che li rendono riutilizzabili. E proprio per produrre dei dati aperti e dei dati che sono più facilmente riutilizzabili, il termine fair poi verrà sviluppato nelle prossime presentazioni però sostanzialmente dà delle indicazioni su come vanno preparati i dati, un modo appunto per riuscire a produrre dei dati fair e degli open data è il data management plan, quindi questa pianificazione di dove di che cosa si produrrà, dove verranno messi questi dati, quali assicurazioni hanno i tipi di repository scelti, così come anche la comunicazione che si può fare intorno a questi dati, la possibilità di condividerli e quindi anche i potenziali riusi dei dati. A me piace pensare che magari un modello semplice per capire che cosa bisogna fare può essere questo, cioè concentrarsi su tre operazioni abbastanza generali. Si vuole produrre una documentazione di ricerca e con documentazione intendo tutto anche open educational materials, dati, interviste, video, registrazioni audio, insomma tutto il materiale si vuole sostanzialmente che sia facile da trovare, facile da citare, perché comunque è chiaro che è anche parte comunque del nostro lavoro come ricercatore e infine è facile da riusare. Questi tre scopi, queste tre direzioni in cui vogliamo andare ovviamente poi richiedono tutta una serie di passaggi e inizialmente se ne farà qualcuno, inizialmente saremo più bravi su alcuni punti e poi col tempo diventeremo più bravi su tutto. Per esempio il fatto di scegliere certe banche dati piuttosto che altre si rivela spesso anche una scelta strategica che può essere fatta anche in un secondo tempo, si fanno degli errori, ci sono dei luoghi che sono magari più funzionali per il nostro ambito disciplinare e altri ed è un processo quindi non bisogna pensare di avere la formula magica immediatamente ma muovendosi nella direzione del rendere più facile da trovare le cose, citarle, riusarle, tendenzialmente si ha una visione di come possono essere poi raccolti i dati, distribuiti, dove possono essere messi e in quali formati. Tra l'altro poi questa riflessione, questa attenzione vuol dire ovviamente fare attenzione ai contratti e alle questioni etiche che fanno parte poi anche del nostro modo di fare ricerca. Un'altra riflessione che può essere magari utile per l'apertura dei dati, l'open science in generale e l'approccio è quello di pensare poi chi potrà beneficiare di questo materiale. in realtà il fatto comunque di archiviare la nostra documentazione, renderla accessibile, rilasciarla con licenze libere spesso è molto funzionale anche per noi stessi. Quello che ci permette è di chiaramente continuare a recuperare materiale di ricerca, a riutilizzarlo, magari passarlo a dei colleghi, magari appunto condividerlo con dei partner di progetto e questa operazione non è sempre semplicissima perché a volte ci sono dei progetti in cui non è stato chiarito come saranno poi gestiti i risultati materiali e le pubblicazioni per cui è molto difficile in una fase successiva rinegoziare gli accordi per cui il fatto di seguire questo itere e fare attenzione a come si condivide e alla cura anche dell'apertura dei contenuti facilita anche poi l'inclusione di tutte queste pratiche anche nella collaborazione con altri partner. Un'altra questione è quella legata alle istituzioni il fatto comunque di avere una policy all'interno dell'istituzione che permette il riuso dei materiali rende anche possibile poi la collaborazione più ampia con altre istituzioni e così via l'uso può essere poi legato ovviamente alla cittadinanza però in realtà va anche incoraggiato nel momento in cui si aprono i contenuti non è automatico che altri li utilizzeranno quindi il fatto di pensare anche a chi può essere interessato quel materiale e il fatto di lavorare anche con i colleghi pensando anche al follow up quindi al seguito delle nostre ricerche e al seguito dell'attività è una cosa che ha molto senso infine come strumento per l'implementazione per la realizzazione dell'open science uno strumento importante è quello delle licenze le licenze sono sostanzialmente le autorizzazioni dicono che cosa si può fare con i contenuti e vale la pena inserirle un po' ovunque cioè imparare a utilizzare le licenze perché ci aiutano a produrre effettivamente del contenuto che altri sanno essere aperto le licenze sono queste diciture che compaiono in pubblicazioni siti internet materiali può essere incluso appunto nei dataset un po' ovunque e sono sostanzialmente delle indicazioni che possono essere comprese dagli uomini perché se si segue il link della licenza spiega che cosa si può fare con quel materiale ma sono comprensibili anche dai computer perché sono machine readable contengono dei metadatti che possono essere letti dalle macchine e infine hanno un valore legale che diversamente dai contratti i contratti sono qualcosa che si stipula tra due persone di solito due enti o comunque due parti in questo caso è tra una parte cioè io autore e il mondo cioè la licenza vale per tutti quindi tutti quanti sono autorizzati così come dico io quindi questo sistema della lettura diversa delle licenze è importante perché permette effettivamente un uso reale delle licenze e anche permette a livello internazionale che ci trovino che trovino il materiale aperto e nel caso dell'open science sono in realtà soltanto tre le licenze per i contenuti i dati che sono normalmente raccomandate poi ci sono licenze diverse per il software ma per i software non sono molto numerose le più comune sono la GPL e la MIT comunque le licenze per i contenuti che sono più utilizzate sono la CC e sono quelle che soddisfano i requisiti dell'open science sono queste tre quindi il pubblico dominio la creative commons zero la creative commons attribuzione e la creative commons attribuzione condividi allo stesso modo io sostengo molto l'uso di queste due licenze la creative commons monster zero quindi il pubblico dominio per i dati perché rendono effettivamente molto più accessibili i dataset mentre sostengo una la licenza più restrittiva per i contenuti perché è share alike quindi condividi allo stesso modo questo è il significato della parola copyleft che magari avete già sentito il copyleft vuol dire che praticamente si infetta il sistema cioè una cosa diventa libera e continua a rimanere libera chiunque userà quel contenuto dovrà partecipare a mantenerlo libero quindi dovrà adottare la stessa licenza o una licenza simile per cui mantiene i contenuti liberi secondo me soprattutto per il lavoro fatto con dei partner può essere molto comodo e molto utile perché facilita insomma le operazioni poi di riuso dei materiali poi nel caso del mondo della ricerca si incontrano spesso le licenze per esempio nei contratti con le riviste una rivista open access gold dovrebbe avere una licenza come dicevo di queste compatibili con open science quando per esempio si chiede materiale ad altri è importante anche lì chiedere un'autorizzazione o specificare con quale licenza verranno rilasciati i materiali nel data management plan è uno degli elementi i finanziatori sono spesso enti che richiedono comunque certe scelte di licenza in particolare si sta promuovendo molto la la creative commons attribuzione quindi la cc buy e infine un altro uso comune delle licenze è quando si produce una pubblicazione anche magari una pubblicazione interna un report un materiale di testo un sito internet anche lì è bene utilizzare delle licenze libere passo rapidamente sulle questioni dei diritti sempre legati al fatto che non sempre ci appartengono i materiali bisogna fare attenzione che quando quando si produce un articolo una ricerca si è senz'altro autori di quel materiale ma non è detto che si posseggono i diritti e quindi è importante chiarire le licenze in modo tale da facilitare poi il riuso e per esempio anche nella collaborazione che sto facendo con il servizio ricerca stiamo creando anche dei modelli del materiale che magari può aiutare nel chiedere dell'autorizzazione nel collaborare con altri ecco a livello SUPSI quello che secondo me cambierà è delle piccole cose all'interno del sistema adesso questa è una bozza di alcune delle procedure per esempio nella preparazione del progetto il fatto che comunque nel momento in cui si prepara un outline quindi si lancia una richiesta per l'avvio di un progetto viene richiesto la licenza è un modo per guidare verso il tema dell'inserire comunque una negoziazione con i partner affinché i contenuti siano rilasciati in modo libero lo stesso per quanto riguarda poi le schede progetto la chiesura il fatto che venga chiesto poi di caricare le pubblicazioni i dati attualmente lo si chiede su repository in story che è la banca dati delle pubblicazioni SUPSI probabilmente un domani sarà legato ad un nuovo repository collegato a Zenodo però insomma il processo già prevede comunque delle fasi in cui vengono chiariti gli accordi di licenza in cui vengono condivisi i materiali e viene detto dove si trovano questi materiali facilitando il loro riperimento e lo stessa procedura esiste per esempio già in diversi dipartimenti della SUPSI un'attenzione verso il materiale didattico e un'attenzione per le tesi di laurea quindi il fatto di rendere disponibile il materiale e caricarlo poi è chiaro che per esempio per il materiale didattico il tema anche della didattica online i corsi ci sono poi anche delle scelte legate anche al business e ovviamente anche queste scelte possono essere rispettate lo stesso vale per quelli che sono i progetti che producono dei brevetti anche in quel caso quando c'è un interesse economico questo interesse economico basta giustificarlo e quindi spiegare per quale motivo il materiale deve essere non rilasciato immediatamente in modo libero ma si sta sviluppando una successiva fase o un business per cui questo materiale può non essere necessariamente aperto non necessariamente aperto è aperto di default ma può essere anche spiegato per quale motivo non può essere accessibile in conclusione volevo segnalare il sito open science della SUPSI in cui abbiamo raccolto un po' i materiali sui quali stiamo lavorando attualmente la SUPSI ha definito una serie di linee guida che nel corso di quest'anno si vogliono soprattutto pensare accompagnate con degli strumenti anche questo incontro è anche un modo per accompagnare il processo e quindi per facilitare anche le successive fasi poi di implementazione dell'open science e stiamo collaborando con i bibliotecari si sta lavorando sul progetto per un nuovo repository dei dati e delle pubblicazioni SUPSI e si stanno raccogliendo delle linee guida e dei materiali che possono facilitare l'implementazione dell'open science l'obiettivo come dicevo all'inizio è quello che la ricerca in Svizzera sia tutta open access entro il 2024 ormai la maggior parte degli enti finanziatori già richiede comunque pubblicazioni open access dati rilasciati aperti e si sta sempre più anche incoraggiando nuove strategie di apertura e collaborazione con i cittadini per cui la direzione in cui sta andando la SUPSI è assolutamente allineata anche a questa direzione grazie Iolanda grazie mille per questo intervento estremamente denso ricco di informazione prima di lasciare alzare le domande ai vari partecipanti vorrei pregare che qualcuno c'è in casa un falegnamo un muratore che sta lavorando ah ok io mi dispiace ok allora niente ok il tratore è ok lavori in condizioni particolari ok va benissimo così ok allora lascerei ai colleghi la parola per domande appunto o per alzata di mano o per intervento diretto segnalo anche che abbiamo avuto un piccolo problema per l'accesso mi spiace che non ha funzionato verificheremo con i tecnici per la prossima volta in modo da garantire l'accesso a tutti mi devo scusare per questo non non avevo pensato che ci possa essere un problema ecco con questo quindi c'è qualcuno ha alzato la mano posso fare una domanda sono già cinta c'è la cinta sì prego grazie Yolanda io ho una curiosità che interessa un po' tutti noi che lavoriamo alla SUPSI quando pubblichiamo qualcosa o quando mettiamo qualcosa in open access visto che nella nostra grande maggioranza dei casi si tratta di documenti realizzati all'interno di progetti di ricerca SUPSI o finanziati da altri quali sono i diritti che appartengono all'istituzione in realtà questo è stato chiarito c'è un regolamento per il diritto d'autore della SUPSI che è uscito se non sbaglio tre anni fa o quattro anni fa e chiarisce che tutti i diritti appartengono alla SUPSI il documento di default dice questo questo come dicevo prima vuol dire che non è che non si è autori si è autori di questi contenuti però vuol dire che alla SUPSI appartengono i diritti questo dovrebbe impedire alle persone di sublicenziare il materiale cioè rilasciarlo con licenze non approvate dalla SUPSI è chiaro che andando in una direzione di open science il fatto di pubblicare con delle licenze che sono compatibili con la strategia nazionale sembra una direzione molto sensata però è vero che la gestione dei diritti d'autore della SUPSI è nata per questioni legate ai brevetti per cui nasceva per un obiettivo molto specifico e quindi ha un impatto su tutto su tutti i contenuti ma forse anche lì c'è bisogno di declinarlo e sarà un lavoro che appunto la commissione ricerca e il servizio ricerca e la direzione dovranno affrontare ma formalmente vanno richiesti i permessi o uno dà per acquisito che se mette una pubblicazione su Zenodo va bene alla SUPSI oppure bisogna informare la SUPSI in qualche modo nella gestione dei brevetti cioè quando ci sono questioni legate a business quindi comunque questioni critiche il riferimento è il dipartimento per cui credo che allora questo nella gestione diciamo delle questioni di business allora nella pratica quello che adesso abbiamo avuto alcune situazioni in cui è stato chiesto anche al servizio ricerca magari consigli per dei contratti eccetera noi abbiamo seguito pensando di fare una scelta ragionevole appunto indicazione di apertura dei contenuti che sono quelle in linea con l'open access di Swiss Universities perché la SUPSI ha aderito comunque a questa strategia nazionale per cui non sembra esserci nessun conflitto credo che le situazioni che possono essere problematiche sono veramente legate alla nascita di un business a una gestione di diritti in cui ci sono degli interessi commerciali chiedo scusa una risposta di buon senso che non è così chiara diciamo non c'è una policy che lo chiarisce credo che sia una cosa che manca e che vale la pena appunto che venga affrontata però al momento è ancora un po' insomma non definito grazie forse posso aggiungere a questo che proprio nel momento che si è iniziata a parlare di open access e così via la sub si è iniziata a definire una policy molto chiara sul diritto di proprietà intellettuale quindi siamo usciti forse un anno fa col regolamento sul proprietà intellettuale ma appunto come viene protetto ma non abbiamo affrontato tutta la questione su open science e questo sicuramente deve essere ancora fatto come complemento tra l'altro forse una cosa ancora che può essere anche interessante riguarda anche non solo pubblicazione anche materiale didattico la sub si chiaramente dice che il materiale didattico preparato all'interno della sub si è di proprietà sua di proprietà intellettuale appartiene alla scuola d'accordo ma invece nel caso di un progetto finanziato non lo so da interreg dal fondo nazionale ed altri istituti esterni la proprietà intellettuale del lavoro di chi è del fondo nazionale o della sub si no non c'è una cessione dei diritti tra l'altro questa cosa di evitare l'accessione dei diritti è anche una delle cose che è sostenuta dall'open access cioè non si vuole che vengano ceduti i diritti a un editore o ad enti terzi quindi i diritti restano sempre dell'ente anche quando si adotta una licenza libera non è che si perde i diritti semplicemente si autorizzano degli usi quindi anche in quel caso le licenze libere non è che non c'è nessun tipo di cessione in più ci sono i diritti morali che sono invece dei diritti che non sono sono sempre nostri quindi noi abbiamo sempre il diritto che di essere citati di essere gli autori di quello che facciamo abbiamo sempre il diritto di essere riconosciuti che anche quello che noi produciamo non venga usato per scopi che sono in conflitto con quelle che è la nostra visione delle cose c'è anche appunto dei diritti accessori che non c'entrano con le licenze e con le autorizzazioni ma volevo anche aggiungere una cosa su questa policy del diritto d'autore in realtà è molto efficace il fatto di avere tutti i diritti che appartengono la SUPSI o al conservatorio o al teatro Dimitri renderà poi il processo molto più semplice nel momento in cui si adottano delle policy delle direzioni perché altrimenti dovrebbe essere fatta la negoziazione con ogni singolo detentore dei diritti cosa che diventa impossibile cioè quello che rischierebbe la SUPSI è di non avere più nessun accesso alla documentazione che è stata prodotta dai progetti per cui in realtà e anche lì il fatto che si scegliano delle licenze libere rende l'autore che non detiene i diritti però rende possibile per lui l'uso di quel materiale un pieno uso anche per scopi commerciali quindi che sono autorizzati dalla direzione dell'open science forse un'eccezione c'è con i progetti di No Swiss cioè proprio l'agrement di cedere i diritti i diritti ai terzi quindi però in questo in questo caso è regolamentato ad un accordo fra le parti che vengono cessate tutti i diritti e qui evidentemente qui ci sarà un limite di pubblicazione su questi progetti Sì è vero l'ambito poi dei servizi e di tutto quello che è anche la collaborazione con le aziende è un ambito che per la SUPSI e per le SUP in generale è un ambito importante e ha ovviamente altre implicazioni quindi non è una ricerca pura ma è una collaborazione una pratica che si sta incoraggiando e che vale la pena tenere presente è il fatto che ci sia comunque una data di fine cioè che i diritti a un certo punto sia possibile utilizzare quel materiale a un certo punto sia possibile pubblicare questa è una cura che ha senso iniziare a considerare nei contratti da quello che so io non ho visto però mi spiegavano che anche nei contratti in uno Swiss c'è questa clausola per cui estenderla poi in generale nei contratti è una pratica importante assolutamente magari altre domande massimo mi chiedo se ci siano delle sfumature diciamo così nell'applicazione di questo principio tra quelle che sono diciamo le scienze umane gli ambiti artistici e quello che è un po' il campo del brevetto e del diritto di sfruttamento che sono diciamo ambiti molto diversi anche per le implicazioni economiche che hanno in alcuni casi molto forti e immediate in altri in altri meno ma allora ci sono sicuramente va bene se rispondo io scusami Massimo non sapevo se era una domanda aperta anche a Roma no perché questo è un tema in cui sicuramente allora la mia esperienza è che bisogna lavorare su casi studio ed è anche assolutamente sostenuto anche da Swiss Universities a volte fare dei discorsi generali su alcuni ambiti rischia di produrre più confusione più complessità che non magari provare a vedere i casi e penso anche che ci sono dei casi che sono molto complicati e ci sono invece dei casi che sono molto semplici quindi anche lì la mia esperienza è cominciare anche dai casi semplici perché ci saranno sempre delle situazioni che sono appunto troppi elementi in generale il principio almeno ribadito anche dal fondo nazionale quindi in questo caso parliamo di finanziamenti pubblici che dicono in modo molto chiaro noi siamo un ente pubblico finanziamo con dei fondi pubblici qualcosa vogliamo che quel qualcosa sia reso disponibile in modo pubblico quindi questo è diciamo il ragionamento alle spalle di una scelta in cui se si producono magari dei contenuti anche fatti da degli artisti attraverso quel tipo di finanziamento magari ha senso considerare il fatto che il prodotto che viene viene creato deve rimanere aperto comunque deve essere pensato con uno scopo invece di apertura se invece ci sono magari dei finanziamenti che sono destinati comunque a incoraggiare la produzione la creatività e anche il lavoro autonomo l'avvio della carriera perché esistono poi anche dei finanziamenti che hanno uno scopo che però è finalizzato appunto al sostegno delle arti e anche al mestiere delle arti immagino che lì la riflessione sia di diversa natura perché uno vuole anche vedere in che modo può esserci poi l'interesse sull'opera eccetera è vero anche che in certi ambiti per esempio ci sono degli ambiti non sono molti i libri che guadagnano cioè la letteratura per esempio non sono molte le pubblicazioni che in effetti riescono a vivere dell'introito e della vendita ci sono i best seller ci sono degli autori molto noti ci sono degli autori di successo però non sempre è attraverso la distribuzione che guadagnano gli autori o comunque non è detto che il libro non rappresenti più una spesa che non un guadagno per l'autore per cui anche lì forse sono ambiti in cui una riflessione va anche fatta magari ha più senso aprire questi contenuti piuttosto che lavorare sul guadagno rispetto al libro quindi secondo me va un po' preso caso per caso e certamente in alcuni ambiti ci sono più interessi che in altri ma lo vediamo adesso con le ricerche mediche il tema della cioè ci sono degli ambiti in cui ci sono degli interessi economici immensi per cui è chiaro che la scelta di aprire questi contenuti non è una scelta innocente è una scelta politica è una scelta anche di divisione e in cui ci sono sicuramente delle tensioni e delle opposizioni reali perciò la mia domanda c'è una una complessità se vogliamo non solo nel mondo ma anche nelle svariate anime della subsi che andrebbe poi come dire valutata anche in funzione di quello che è il prodotto che le scuole stesse sostengono nel nel nostro caso ci sono delle dinamiche in gioco che a volte sono in piena contraddizione per cui un musicista potrebbe fare un lavoro o anche un artista che è a metà strada perché adesso questo è un concetto che è molto di moda che è un lavoro che è a metà strada tra la ricerca e l'arte e fare appello al diciamo da una parte a un certo tipo di finanziamento dall'altra a un certo tipo di prodotto e poi riferirsi non so alla Suisa per la protezione dei diritti d'autore come autore di qualcosa cioè una complessità che forse va un po' esplorata man mano che arriverà ecco nel senso che si faccio fatica a vedere in un'unica definizione una serie di attività e di prodotti che a volte rispondono a esigenze e a dinamiche anche diverse quindi immagino che questo verrà a un certo punto ma io ho cercato anche anche guardando a Svizzera Digitale cercavo di dimostrare come si sta andando in una direzione andare in una direzione non vuol dire che si è arrivati e non vuol dire che tutto andrà da quella parte però in qualche modo si è segnata veramente in questi anni una nuova direzione una direzione nuova per la ricerca per l'accesso ai dati anche di principio che è molto nuovo perché il principio che i dati debbano essere aperti non è una cosa che è così consolidata da tanto tempo per niente per cui si apre questa strada e avrà secondo me un impatto molto interessante poi io senz'altro sono un attivista in questa direzione perché ho una posizione anche ideologica abbastanza chiara però è una direzione abbastanza sorprendente anche per come può cambiare la ricerca e secondo me vale la pena in questo ambito guardare più la direzione che non il singolo caso perché sicuramente ci saranno poi situazioni in cui non è possibile rilasciare i contenuti liberi in cui le tensioni sono troppo complesse ci sono troppi conflitti per cui anche i dati geografici per esempio in Svizzera sono un tema molto complesso tutta la parte di Swiss Stop adesso è in discussione perché ci sono anche interessi economici sulla vendita dei dati quindi ci sono molti ambiti in cui si guarda da una parte ma prima che si riuscirà veramente ad arrivare in tutti i singoli ambiti sarà complesso però ci sono degli ambiti che sono facili cioè fare in modo che il materiale di ricerca sia archiviato e che uno lo possa ritrovare sei anni dopo secondo me è una cosa che vale la pena ce la possiamo fare c'è anche un passaggio utile e fattibile c'è una cosa che invece a prescindere da questa discussione che chiaramente è molto come dire futuristica quando dicevi che la SUPSI ha nei regolamenti o dicevate nei suoi regolamenti una serie delle indicazioni anche che riguardano la gestione dei diritti e c'è un lavoro di negoziazione con le case editrici mi chiedo anche lì a che punto siamo arrivati nel senso che nella mia esperienza quando ho pubblicato lavori diciamo di un certo tipo monografici io ho sempre firmato il contratto con l'editore l'ho firmato io la domanda è in futuro lo deve firmare il mio prossimo contratto noi siamo affiliati quindi poi alla fine facciamo anche quello che facciamo anche un po' i casi i casi i casi anomali però facendo finta che siamo allineati su una stessa strategia il prossimo contratto per una monografia con una casa editrice la firmo io la firma il direttore del conservatorio della SUPSI allora secondo me c'è quello che speriamo che non succeda forse perché non ha senso che io spero che non succeda che debbano essere i direttori dei dipartimenti o i direttori a dover firmare tutti i contratti con le case editrici e le riviste perché noi dobbiamo produrre tante pubblicazioni per cui sarebbe un lavoro assurdo no quello che secondo me è la direzione che potrebbe essere la migliore è il fatto che sia magari più chiaro che cosa vogliamo dai contratti cioè sapere qual è la direzione in cui la SUPSI vorrebbe allora vorremmo che nel contratto ci fosse scritto che non c'è una cessione completa di tutti i diritti alla casa editrice magari piuttosto che non so entrambi hanno tutti i diritti non esclusivi in modo tale che anche l'editore poi ha i diritti però li tieni anche la SUPSI un'altra cosa che magari ha senso che ci sia scritta nel contratto è che se la pubblicazione non è open access quindi se la pubblicazione non è già aperta con una licenza libera di quelle che vi indicavo almeno che sia possibile l'autoarchiviazione sul sito istituzionale a me è successo diverse volte di scrivere alla casa editrice e dire guardate la policy della mia università in cui stiamo andando con l'Unione Europea con i fondi eccetera richiede che ci sia almeno l'autoarchiviazione potete inserirla nel contratto e sta diventando sempre più comune che la risposta sia sì quindi magari avere una serie di indicazioni sulle cose che dovrebbero esserci sul contratto quello che noi vorremmo come direzione perché è la direzione open access quindi quella in cui sta andando la Svizzera ed eventualmente se non è possibile ottenerla magari va notificato o va spiegato perché magari è stata fatta una contrattazione con l'editore o c'è una motivazione particolarmente importante però insomma uno il fatto che comunque la persona che firma il contratto deve giustificare perché sta firmando un contratto che comunque ha dei punti che non funzionano forse è una strada che potrebbe essere la più idonea la più semplice anche però appunto questa sarà una cosa da esplorare e dovrà esplorare le persone che si occupano poi della ricerca della SUPSI anche decidendo come gestire poi la parte anche sul diritto d'autore Ezio poi Francesca scusami ho finito lezione soltanto mezz'ora fa quindi mi sono collegato magari ha già dato la risposta all'inizio ma per la questione open access delle riviste ci sono dei costi questi poi mi risentirò l'intervento ma questi costi delle case editrici tipo Springer o Elsevier verranno sostenuti da chi? Allora al momento la policy quella nazionale richiede che siano sostenuti i costi per per il gold open access non per l'open access ibrido quindi dovrebbero essere o delle pubblicazioni che sono interamente open access o comunque una negoziazione che sia più ampia non il singolo articolo di una pubblicazione non open access scusa se faccio questa premessa ma perché a volte alcune delle pubblicazioni non sono open access richiedono la copertura dei costi per l'accesso di un singolo articolo e questo non è coperto dalle strategie la strategia anche del fondo nazionale non copre questo tipo di spese almeno non so se poi ci sono delle eccezioni però in generale non è non è uno delle strade sostenute e per quanto riguarda la copertura delle spese di pubblicazione allora c'è da una parte ci sono i fondi legati ai progetti di ricerca quindi il fondo nazionale ha comunque un fondo per le pubblicazioni così l'Unione Europea prevede che possano essere usati i fondi dei progetti per le pubblicazioni se invece ci sono dei progetti di ricerca che non rientrano in questo tipo di finanziamenti o che comunque non sono associati ai finanziamenti che possono coprire le pubblicazioni e quello che sta definendo il servizio ricerca è un fondo destinato alla copertura delle spese di pubblicazione adesso quello che Loredana Alberti ha cominciato a fare era appunto interrogare poi i vari responsabili della ricerca per raccogliere più informazioni su che tipo di esigenze ci sono cioè perché per capire appunto di che spese si sta parlando quali sono anche un po' le abitudini di pubblicazioni nei diversi istituti nei diversi dipartimenti per poi poter definire appunto i costi e un fondo per poter coprire queste spese sì sì facciamo una media di due articoli a senior se moltiplichiamo per il numero dei ricercatori che sono in SUPSI per un costo medio di 1500-2000 euro per pubblicazione andiamo verso i 100.000 e oltre per cui diventa un costo molto gravoso per la SUPSI sì quello che bisogna un attimo capire anche se sono associati a dei progetti di ricerca oppure perché non sono mai coperti questi fondi e in più c'è anche da tenere presente il green open access che è comunque una strada che non richiede il pagamento di costi e ci sono delle pubblicazioni che richiedono costi più contenuti o che non richiedono costi poi è chiaro che appunto va capito meglio che tipo di esigenze ci sono e qual è la situazione non sono certa per ora il calcolo fatto così non sembrava corrispondere alla situazione però appunto magari emergerà invece che è insostenibile e che non è possibile sostenere i costi le riviste che stavi menzionando cioè Springer Nature piuttosto che Elsevier sono case editrici con le quali anche ci sono delle negoziazioni in corso anche per non da parte della SUPSI ma da parte di Swiss Universities e del Fondo Nazionale Allora c'era Francesca e poi io volevo soltanto fare un commento sul fatto che quello che trovo molto interessante è di essere conci di questa possibilità di negoziare quando le cose più classiche più tipiche noi pubblichiamo per una conferenza i pre-proceeding di un convegno e online ti chiedono di cliccare la casella in cui rilasci tutti i diritti di capire di capire che è possibile scrivere avere dei formulari come quelli che ci facevi vedere prima Yolanda per negoziare il fatto che possiamo almeno avere la condivisione di questi diritti quindi io adesso questa cosa la sto implementando in maniera sistematica sulle piccole pubblicazioni che faccio con il nostro gruppo solo un commento non era una domanda lascio Marta no solo una piccola cosa proprio su quello che stava dicendo Yolanda e Ezio prima che proprio una settimana fa o dieci giorni è arrivato un'email proprio dalla ricerca SUPSI che diceva che era stato firmato questo accordo con il SAVIER e quindi c'era la possibilità per tutti i ricercatori SUPSI di pubblicare open access con il SAVIER senza costi proprio dieci giorni fa insomma poco tempo fa quindi deve essere un accordo che è stato firmato da poco immagino sì chiedo scusa io su questo non sono informata forse Loredana Alberti forse non è sfuggita la notizia di questo non sapevo è in questa newsletter che si chiama Research Development and Knowledge Transfer c'è una newsletter e tra le varie notizie c'era anche questa ma è proprio molto recente quindi magari non tutti lo sapessero sì mi permesso di dire un momento scusate grazie scusate su Loredana su Loredana di servizio ricerca per chi non mi conosce sì stavo facendo altre cose nel frattempo scusate e allora sì esattamente io ho messo l'informazione in cui Swiss University ha appunto negoziato con le case edirizzerici grandi tra cui Svier un contratto che è almeno valido per 2020 in cui tutte le università non sub svizzere le possiamo pubblicare in open access dei giornali di questa casa editrice è stato anche attivato un indirizzo email in cui io e alcuni bibliotecari siamo i punti di riferimento per tutto ciò che riguarda la parte amministrativa se avete delle domande potete potete contattarci grazie spero che sia chiara adesso io posso forse solo aggiungere che a un certo momento si voleva uscire già con delle linee guida appunto con istruzione e tutto quanto e poi è stato un po' fermato per proprio anche capire quanto persone potrebbero essere interessati a pubblicare appunto quanto potrebbe poi costare tutta l'operazione quindi anche su questo si cerca di capire adesso un po' meglio per anticipare questi finanziamenti che devono venire per forza della SUPSI dove non ci sono previsti dagli altri enti che finanziano alla ricerca posso aggiungere una piccola cosa quello che diceva Ezio e cioè la dinamica non è sempre quella progetto finanziato finanziamento fondo nazionale che include il costo della pubblicazione quindi open access a volte è il contrario nel senso che si comincia a lavorare a un progetto e in prospettiva di un grosso finanziamento si incomincia a pubblicare la parte dati preliminari parte ed è lì che servono dei soldi che non è detto che arriveranno mai per cui non sottovaluterei il fattore diciamo finanziamento interno che è come dire propedeutico al diciamo al finanziamento grosso laddove sempre in maniera più da quello che ho visto sempre in maniera più stringente il fondo nazionale chiede che si sia già pubblicato in quel campo in maniera tale da poter qualificare la ricerca per poterla poi finanziare quindi paradossalmente bisogna prima pubblicare dimostrare di essere bravi poi si ottiene finanziamento e poi si pubblica ancora però c'è un momento che spesso è iniziale non finale in cui la pubblicazione è fondamentale e non è detto che sia coperta o con un finanziamento che è già presente o da qualche parte a volte bisogna ricorrere alle diciamo al finanziamento interno a una base interna C'è ancora Roberta vedo con la mano alzata Sì buongiorno a tutti adesso stavo facendo un giretto su SV allora il tema però per esempio io parlo per le storie dell'architettura e si ha vuol dire riascimento moderna e contemporanea quindi riascimento e e novecento il problema delle pubblicazioni è anche la sede della pubblicazione cioè quindi una peer review fatta su una determinata per esempio in una determinata rivista con un certo comitato scientifico e non una peer review qualunque per cui io sto guardando su SV non ci sono né riviste di architettura né particolarmente così prestigiose né vedo pubblicazioni di architettura in generale anche in un certo livello per cui mi chiedo quanto poi possa sostenerci anche scientificamente nella nostra qualifica scientifica poi per ulteriori richieste anche con nazionale dipende molto anche dalle case con chi pubblichi o con quali riviste pubbliche il tema poi del prossimo incontro con Alessandro Pierno sarà proprio sull'open access che secondo me può essere interessante anche per esempio alcuni parametri economici per esempio uno dei temi che di solito poi Alessandro tratta è anche quello di che cos'è un corrispondivo sensato anche per una rivista e invece quali sono dei prezzi che sono fuori mercato comunque non non inseriti nelle riviste open access approvate ovviamente è chiaro che la negoziazione con un grosso editore non avevo avevo frainteso avevo capito che era una negoziazione dei supsi quindi la negoziazione di Swiss Universities con un grosso editore resta comunque un passaggio che è quasi storico cioè in realtà veniva citata secondo me anche perché è una è una grandissima cosa nel senso ci si sta muovendo anche con degli editori che storicamente sono molto molto complessi con cui è molto difficile poi trovare degli accordi per cui è un bellissimo segnale di un movimento è chiaro che la scelta delle riviste deve tenere conto anche del prestigio ci sono appunto delle discussioni che possono ancora essere fatte con delle riviste magari poco sensibili al tema e che non che invece magari poi sono disponibili anche a rendere disponibili le cose c'è la strada del green open access quindi ci sono anche degli spazi diversi non è secondo me bisogna veramente provare anche la parte di pubblicazioni di ricerca sulle riviste attualmente disponibili in open access ma anche verificare cosa c'è tra le tantissime riviste che sono in green open access quindi tenere anche presenti queste due strade grazie grazie Yolanda era anche un po' la mia indicazione che voleva dare per la prossima volta che tra una settimana quindi era appunto proprio la scelta e come scegliere una pubblicazione open access e quindi immagino che tratteremo poi più in dettaglio e anche gli aspetti sulla casettitrice e così via se non ci sono più domande abbiamo spesa questa ora e qualche minuto sicuramente in modo molto interessante e vi vi ringrazio tantissimo per il vostro interesse se appunto non ci sono più domande è difficile avere la l'overview ma non vedo mani alzate quindi abbiamo esaurito la la question the times e quindi ringrazio tantissimo a Yolanda per la presentazione e sono sicuro che partecipi anche le prossime volte quindi saranno ancora domande eventualmente da fare a te e credo anche si siete sia al servizio ricerca che anche Yolanda disponibile per eventuali domande particolari in questo ambito se non ricorda era un po' questo anche l'accordo con la commissione ricerca Yolanda tu rimani lì come come advice in un ruolo comunque di 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 esperienze esperienze quindi se ci sono questioni particolari penso possiamo anche rivolgere direttamente a te giusto non faccio un abuso se dico queste informazioni di